Come tante entro io, prima di trovare il mio abito da sposa ho girato lungo, finché alla fine ho scelto Michele Litt, dove mi sono davvero trovata bene e vi spiego il perché. Appena arrivata non ho avuto nessun problema di parcheggio, inoltre all'interno mi sono trovata in un ambiente elegante e raffinato, dove ho provato tantissimi abiti in un camerino spazioso a mia disposizione, seguita da una curatrice di immagine davvero competente e professionale. Inoltre non ricordo davvero con precisione quanti abiti ho misurato, ricordo però la forte emozione che ho sentito nello scegliere l'abito e come disse la mia curatrice, non sei tu a scegliere l'abito, ma è l'abito che scegli te. Per questo mi sento davvero di consigliare Michele Litt per la vasta gamma di abiti, la competenza e la professionalità, nei consigli che mi hanno dato non solo per i preparativi in generale, ma anche nella cura degli abiti per la mia famiglia e il mio sposo, in modo da essere davvero una coppia abbinata e perfetta. Sono fiera della mia scelta, scegli anche tu Michele Litt. Scegli anche tu a scegliere l'abito. Scegli anche tu a scegliere l'abito. Scegli anche tu a scegliere l'abito.